Vineria, osteria, birreria. Vini naturali, birra artigianale, prodotti alimentari, biologici e artigianali. La scelta dei prodotti e la coerenza in esso, non è che diciamo siamo un locale che ha vini naturali, poi nella nostra carta c'è di tutto, tre bottiglie di vino naturale, o a birra artigianale, poi si trovano anche dentro uno supermercato, due birra artigianali. Quello che c'è è effettivamente questo, naturali, birra artigianale, prodotti di costituzioni diretti o piccoli artigiani. In industriale non c'è assolutamente niente. Più o meno da piccoli produttori della zona intorno a Bologna, delle zone di riferimento, tranne alcuni prodotti alimentari che ci sono dati dal baule volante, che è il distributore di prodotti biologici. Per il resto, si riconoscono che sia di vino, che di birra, che di formaggio, che di salumi. Per cui se alcuni prodotti utilizziamo anche non hanno certificazione biologica. Ad esempio, noi sappiamo come lavorano, per cui sappiamo che per certi versi sono molto più sani, salubri, digeribili, che non prodotti con certificazione biologica, che vengono venduti nei supermercani. Adesso ad esempio abbiamo su una birra di un birrificio di Lugano, un birrificio artigianale di Lugano. Per cui il discorso del chilometro zero, però questo lo dico per quanto mi riguarda in particolare, non solo per la questione del locale del Lugano di 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 Lugano, pensare di poter mangiare solo le cose che provengono dalla propria zona e come chiudere le porte della propria nazione a una società multietnica. Per quanto riguarda le verdure, sì, ad esempio il discorso è chilometro zero, però non è una volontà di fare le cose chilometro zero, è per certi versi una necessità, anche una comodità che ci riguarda. Per cui rivolgendoci a produttori locali, soprattutto di verdura, sono poi le cose che rappresentano l'80% delle bottighe, molto variabili a seconda delle stagioni e anche delle microstagioni. perché chiaramente si è verso l'inverno, quindi ci sono verdure che caratterizzano quella stagione, però è ancora nella campagna intorno a Bologna, non sono latitudini, i broccoli e i cavolfiore ad esempio stanno raggiungendo la maturazione, ancora non sono perfettamente maturi, per cui ancora stiamo con le zucche, ovviamente sono le ultime, e radicchie, cicorie, pietole, cose che chiaramente verdura foglie, insomma, essendo adesso inverno. I vini sono una delle caratteristiche dell'Ortica, nel senso che appunto sono tutti vini naturali, selezionati da Gusto Nudo. L'Ortica è l'unico locale a Bologna a tutti i vini, il catalogo Gusto Nudo in vendita e alcuni di esse in rotazione in mescita, e in più altri vini che non fanno parte del catalogo Gusto Nudo però selezionati. Le birre anche esse sono tutte birre artigianali, non avendo dietro grandi distribuzioni, non possiamo permetterci per ora di avere per esempio la birra che viene fatta, che ne so, a Taranto, e per cui sono per una buona percentuale di micro birrifici della zona. Sì, variano, variano sia le tipologie che sia le storie che queste birre hanno. Le birre di riferimento che teniamo sia in bottiglia che in fusto, cioè le birrerie di riferimento, ossia le birre delle stesse birrerie perché appunto facendo una piccola produzione ed essendo appunto degli appassionati questi che fanno birra provano a fare diverse tipologie che possono essere la Pils, la Dry Hopping, la Porter, la Stout, la Mild, le varie Pay Lay e così. E a rotazione si trovano nella spina. Chiaro, non abbiamo il bancone del tipo con 200 birre sempre presenti. Bisogna un po' venire a essere fortunati se uno ha una passione per cuore per un certo tipo di birre oppure essere curiosi e sapere assaggiare un po' di tutto. Grazie a tutti.